Buongiorno, breve appuntamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Anche se le vacanze natalizie e la chiusura delle scuole contribuiscono a minore traffico sulle nostre strade, la viabilità oggi è compromessa dal maltempo in particolare al centro-sud. Ma come di consueto monitoriamo in real time, le immagini ci giungono in diretta dall'area milanese, come vedete flussi veicolari vivaci in entrambe le direzioni, scendiamo in area partenopea sulla tangenziale di Napoli e si viaggia agevolmente qui all'altezza di Corso Malta. Ad ogni modo inizio nelle comunicarvi che ci sono grossi disagi e viabilità sull'A1 per un incidente verificatosi questa mattina nelle prime ore tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna e al momento ci sono 4 km di code e si consiglia di uscire a Lodi e poi ripercorrere la strada statale e poi rimettersi di nuovo in autosone. Scendiamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo per darvi conto di un altro incidente verificatosi a Tarsia Nord in direzione Reggio Calabria. Le previsioni del tempo indicano per oggi instabilità su medio adriatico e sud con neve fino in pianura e anche sulle coste, sole altrove. Precipitazioni in atto, nevose, a quote basse su Abruzzo, Molise e Puglia interessando la strada statale Garganica, la strada statale 7 Appia, la strada statale 87 Sannitica e anche la strada statale 17 Appennino Abruzzese-Appulo-Sannitico dove sta nevicando e ci sono dei rallentamenti, rallentamenti anche sulla 24 tra Valle del Salto e Ersergi e sulla 1. Attenzione, in questo momento sta nevicando tra Ponte Corvo e Caserta e sull'A14 tra Vasto e Pescara e anche tra Bari e Gioia del Colle. Quindi l'invito da parte nostra è di partire solo se muniti di pneumatici invernali o catene a bordo, anche quando non ci sono precipitazioni nevose in atto. Attenzione, in area barese perché a seguito di un'ordinanza, sempre per neve, è stata disposta l'introduzione alla circolazione dei mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione. Da Alessandra Canale di Rai, pubblica utilità in collaborazione con il Centro Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale, l'augurio di buone feste, guidate con prudenza, fate buon viaggio e buon proseguimento con le informazioni di Rai News. Arrivederci!